Caro Presidente, la mia posizione sul tema della libertà di stampa e della tutela dei giornalisti è ampiamente nota e in molte occasioni ho ribadito la necessità di compiere decisivi passi in campo legislativo per adeguare il nostro impianto normativo a quello europeo. Da una prima ricognizione dell'Associazione Ossigeno, sulle condanne combinate ai giornalisti per reato di diffamazione risultano negli ultimi quattro anni 30 giornalisti condannati a pene detentive per un totale di 17 anni di carcere. I dati ancorché parziali restituiscono con chiarezza l'urgenza alla quale il Parlamento deve immediatamente rispondere approvando al più presto il disegno di legge sulla diffamazione la cui gestazione è stata finora troppo lunga e complicata. Il testo è appena tornato in Senato dopo l'approvazione con modifiche dalla Camera dei Deputati. Essendo così atteso credo che anche questo godò arriverà presto ed è giusto che sia così pur non soddisfacendo in pieno gli standard della legislazione europea in merito.